La fiera dei comuni di San Marco Argentano, svoltasi nello scorso fine settimana, è stata un'occasione importante per le aziende di mettersi in vetrina per promuovere i propri prodotti. L'idea della Kermess è quella di valorizzare i prodotti all'agricoltura e dell'artigianato locale, ma anche porsi come punto di incontro non solo fra imprese e territorio, ma anche per gli enti pubblici. Va visto sotto quest'ottica il patto di amicizia che il Comune di San Marco Argentano, che è ideato e ospitato la Kermess, ha stipulato con Diamante. Ad accomunare i due territori certamente il Peperoncino, se Diamante è la città per eccellenza del Peperoncino, nel territorio di San Marco sono tanti i produttori, ma il patto stipulato vuole essere occasione per programmare una collaborazione a 360 gradi. È un patto di amicizia voluto fortemente proprio in ragione di questa caratteristica, di questa peculiarità che per noi è importante, in quanto nel nostro territorio e nella Valle dell'Esero in particolare, in generale, si produce una notevole quantità di peperoncino. Peperoncino che a Diamante viene pubblicizzato, viene promosso, tanto è vero che il festival che in quella città si tiene ogni anno richiama visitatori da ogni parte e ogni volta fa registrare un successo importante. Quindi partiamo da questo prodotto che ci accomuna per avvicinare le nostre città, per creare delle collaborazioni che poi spazieranno dalla cultura alle scuole, all'enogastronomia e perché no al turismo.